Coniugami ti prego, fa di me il tuo verbo in questa assurda prima persona, senza privarmi del tempo infinito. Prendi il mio anulare e tocca a stento questa casa fino a non promettermi nulla d'eterno ma solo una lunga notte e a seguire tante altre e di fronte quell'isola che lusinga la possibilità di un recarsi e dimenticare, ma tardi a restituirmi e forse non verrà mai domenica, così non potrò indossare il vestito nuovo e il tuo calore pieno resterà solo un prestito. Grazie a tutti.